Adesso andiamo ad analizzare il capitolo delle varie di questa magnifica guida, andiamo adesso a vedere un po' di cosa si compone questo capitolo, veicoli online, cinema, chop, che è il cane di Franklin, prostitute, vabbè appuntamenti sexy, queste cose le lasciamo un po' al fato insomma, le ho già provate ma non è che mi facciano emozionare parecchio. Rapine nei negozi, non l'ho mai fatta questa roba però ci sono diversi negozi da rapinare, addirittura quasi una ventina, parti dell'astronave, questa sarà un po' impossibile da fare perché io e i collezionabili andiamo veramente in disaccordo, anzi c'è proprio un rapporto più di odio che amore. Frammenti di lettera, anche questo sono dei collezionabili che ci dicono appunto dove si trovano esattamente, quindi cerchietto vuol dire esattamente dove si trova e chi vuole proprio fare i collezionabili un giorno dice ciao ciò voglio fare i collezionabili, si prende la guida e va a cercarsi i collezionabili che appunto sono scritti in queste vignette, fatte anche molto bene. Sfide aeree, queste le possiamo tranquillamente assaltare, ancora sfide aeree, tanto non le farò sicuramente perché io e gli aerei andiamo molto d'accordo. Acrobazie folli, queste ne ho già fatte tipo due o tre durante il gameplay principale però anche queste lasciano il tempo che trovano. Andiamo avanti, proprietà questa è una parte interessante ovvero tutti i negozi che possiamo acquistare o le proprietà e ogni proprietà ci garantirà delle entrate settimanali, gestione, paragrafo principale appunto di introduzione, ci sono le proprietà che possiamo acquistare per qualsiasi personaggio, personaggi multipli che possono possedere una sola attività. Poi ci sono le proprietà che possono acquistare solo Michael, solo Franklin e solo Trevor e qua ci sono scritte appunto tutte le informazioni, il titolo della proprietà, quale personaggio può possederla, il costo della proprietà e quante entrate appunto ci garantirà i vantaggi, eventualmente profitto e note personali. Ancora proprietà, raccolta rifiuti radioattivi addirittura, madonna santa. Mi sembra un po' esagerata questa roba ma sicuramente anche questo non lo faccio tutto quanto perché sarà impossibile, sempre sotto l'acqua bisogna andare. Vabbè, parti del sommergibile, anche questi sono sotto acqua. Trattati di epsilonismo, ecco, i bastardissimi che mi hanno fregato per tipo 5-6 missioni, anche questi sono in punti abbastanza strani da recuperare però ci proveremo. E poi pacchetti nascosti, tutti quanti, sono solo 6 se non vado errato, no, sono 12, la maggior parte di questi sott'acqua. Bene, il capitolo delle varie termina qui e come ultimo capitolo di questa recensione finalmente andremo a vedere le illustrazioni dei personaggi, sono delle litografie a mo' di libro e poi vi farò vedere anche la famosa litografia che è un'esclusiva solamente per questa versione della guida. Grazie a tutti.